Noi vogliamo stare in pace. Abbiamo una ragazza da proteggere. Abbiamo bisogno solo di ossigeno. Signor Romano, noi vogliamo soltanto sapere come sta sua figlia. Un figlio viene rapito, fa 18 mesi di vita e come sta quando torna? Non è che se uno sorride sta benissimo. Non confondere la capacità di reagire per rimanere in piedi. L'ignito sapete e cercare di reagire da una situazione di cui sei in preta e che ti porta poi ad andare a una depressione totale. Meno male che c'è un po' di palle e cerca di reagire, ma è la sovravedenza.